...da questo edificio, il muro Star di Kass Gilbert, finito nel 1900 alla fine del 2013, quindi era proprio all'inizio della guerra mondiale, il quale fu a causa di un'altra crisi economica. L'attore l'uva finirà chiamata neogotica, come vedete, e chiamata la cattedrale del cobercio. Ecco il record dell'altezza mondiale. Noi non sappiamo quale crisi ha visto la dinamica di Kels, però avete lato Wright, poi il Burwals non figura come importante, però il prossimo è l'Empart State, che, come sapete, come il Chrysler ha visto il grande colasso del 1929, poi il Petronas e il Taipei sono molto vicini, e poi il World Trade Building, poi commenterò il Svece, il Sears Building di Chicago e le due torri di Vatavia e quella di Vatacota, televisione che però non sono edifici nel nostro senso, e poi alla fine vedete il Burj Dubai, il Burj Khalifa, di cui vi parlerò, un po' più a lungo. Il problema dell'edificio più alto, così stringente, è che esiste una specie di corpo quasi scientifico, che si chiama Council of Town, Birmingham and Urban Habitat, e che è collocato a Lehigh University in Bethany Pennsylvania, non è proprio una grande università, una piccola università senza grande rilievo. E questo istituto tiene conto, più o meno dal 1945, del più alto edificio del mondo. è una scheda che viene registrata attraverso giornali, attraverso liste, attraverso pubblicazioni. Quindi... Buongiorno a tutti! Attenzione signori! Tranquilli, tranquilli! È solo un sogno! Grazie! 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 Forza pubblicità! Grazie a tutti.